I romani, grazie alla loro efficiente rete stradale, riuscirono ad organizzare un sistema postale moderno e ben strutturato. La rete viaria dell'Urbe era ben articolata, manutenuta e controllata, con la finalità di rendere il più veloce e sicuro possibile il viaggio. Ad intervalli regolari erano presenti presidi, stazioni di polizia, che si occupavano di contrastare fenomeni di brigantaggio, ma anche delle aree di servizio, le mutazio, che consentivano il cambio dei cavalli, il ristoro e persino di effettuare piccole riparazioni per riprendere il viaggio il più celermente possibile. I cursores erano i corrieri romani e si occupavano di assolvere questo determinante incarico. L'imperatore Augusto organizzò il cursus publicus, il servizio postale imperiale, che prevedeva una consegna rapida, il cursus celler, ed una ordinaria, il cursus tardus. Per la prima erano utilizzati i cavalli ed era destinata all'invio di messaggi e corrispondenza, la seconda invece era riservata allo spostamento delle merci per cui erano usati i carri. I privati cittadini non potevano usufruirne e, di conseguenza, si avvalevano di una consegna, garantita dai tabellari, ovvero degli schiavi postini, che portavano le missive secondo un preciso tarifario che teneva a conto delle distanze da percorrere. Alternativamente la posta poteva essere trasportata da privati viaggiatori che si avventuravano per le strade romane per fini commerciali. Ogni 50 chilometri, corrispondenti ad un giorno di marcia, i postini avevano la possibilità di fermarsi in stazioni di sosta, le mansiones, gestite dal governo, che erano dotate anche di strutture termali, officine di manutenzione ed ovviamente punti per il ristoro ed il pernottamento. Rispetto alle più piccole mutazio, oltre a fornire un servizio più ampio, erano spesso ubicate in avamposti militari ma anche in città. In considerazione della loro specificità, l'accesso a queste aree era consentito gratuitamente ai funzionari pubblici che, insieme a mercanti e soldati, viaggiavano sulle strade dell'urbe. Proprio per tale motivo per accedervi era obbligatorio esibire un diploma, una sorta di documento di riconoscimento, che attestasse la peculiare mansione svolta all'interno della macchina amministrativa romana. Gli altri viaggiatori potevano entrarvi pagando, oppure erano costretti a ripiegare verso strutture più modeste, come le caupone, che però oltre ad offrire un servizio più scadente erano frequentate da malviventi e prostitute.